Hanno tifato, hanno gioito, hanno trovato finalmente un po' di normalità. I tifosi dell'Italia hanno scelto per 11 giorni Casa Azzurri a Roma per un graduale ritorno alla vita. Concerti, workshop, spettacoli, mostre e aperitivi hanno animato le giornate in tinta azzurra. Il quartier generale della FIGC per Euro 2020 si è rivelato un punto di riferimento e un prezioso veicolo di promozione per tutti i partner della nazionale. Per l'edizione itinerante degli europei, la Federcalcio ha scelto la suggestiva cornice di Prati Bus District che ha ospitato un'area food, un pub, un bar, una sala conferenze, una mostra della nazionale e spazi dedicati ai partner FIGC. Qui anche ministri, italiani e stranieri si sono avvicendati visitando i vari stand per vivere dal vivo l'emozione della diretta, contatto con la gente e godendo anche di buona musica. Nella giornata conclusiva, coincisa con l'ultima gara a Roma della nazionale di Roberto Mancini contro il Galles, tra gli ospiti d'eccezione il campione del mondo 1982 Antonio Cabrini, che ha assistito al match vinto dagli azzurri grazie alla rete di Pessina.